Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Neve sui passi appennemici delle autostrade e delle statali dove ci sono rallentamenti. In A1 6 km di coda per regolazione del traffico tra Firenze in Pluneta e il Bivio con l'A1 in direzione Bologna. Si consiglia agli utenti di utilizzare l'A1 direttissima variante di valico in alternativa al tratto panoramico interessato dalle nevicate. Sulla direttissima tra il Bivio per la variante e Badia in direzione Firenze, rallentamenti per neve. In A11 1 km di coda per la regolazione del traffico tra Plato Est e il Bivio per l'A1 in direzione Firenze. E neve segnalata anche in A15 tra Berceto e Poltremoli. Sulla FIPILI code in uscita alla Strassigna e code tra Ginestra Fiorentina e Scandici in direzione Firenze. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Grazie per la visione!